La luna giornata di Serie D va in archivio tra luce e ombre per le umbre. Il Foligno strappa il pari in rimonta nella tana del Flaminia Civita Castellana. Un'occasione persa visti i risultati delle dirette avversarie, nessuna delle quali riesce a strappare una vittoria per ribaltare le gerarchie che la classifica recita. I falchetti passano in svantaggio con un pizzico di sfortuna vista l'autorete di Adamo, salvo poi pareggiare i conti nel secondo tempo con l'ex Pier Antonio Davino. Bravo a spingere in rete un pallone dopo una deviazione di mano della barriera su punizione di Galbiati. Sul cammino dei falchetti ci si mette anche la cattiva sorte con l'ex Vigor Lamezia Lorenzo Brescia che coglie la traversa a metà del secondo tempo. Va male invece al Gualdo Casacastalla che non riesce a ripetere l'impresa di Coppa Italia sul campo dell'oste amare. I gualdesi restano in dieci dopo appena 13 minuti per l'espulsione di Moriconi, poi però succede tutto nel finale di partita. Al 38esimo il cross di Alfonsi viene deviato in rete di spaccata da Nobili. Gli ospiti però si buttano in avanti in cerca del pari con Gramacce e Marri senza alcun risultato e con la squadra sbilanciata finiscono per subire il colpo del KO che porta la firma di Piro dopo una grande azione personale. Dovamo stare più attenti però ripeto non ho niente a rimprovare i miei ragazzi perché avevamo giocato per 80 minuti 11 contro 10, abbiamo fatto bene, non abbiamo subito niente, anzi abbiamo avuto qualche occasione. Mi spiace che dopo due minuti si è fatto male Megliari e ho dovuto sostituirlo in sottoquoto. È entrato Moriconi, io penso che Moriconi mi fa male neanche una mosca, è vero che ha saltato quel braccio a largo, però non è andato a nessuna gomitata, è stato espulso. E dopo è dura, all'inizio del secondo tempo si è fatto male Popica, vuol dire che quando tutti i sottoquoto si fanno male è difficile per qualsiasi squadra. Da già all'inizio avevamo qualche problema, però ripeto forse sul primo gol dobbiamo stare un pochino più attenti, però bisogna mettere anche in atto che lo Stamare è un'ottima squadra, anche se ripeto oggi non abbiamo preso nessun tiro in porta fino al 96esimo. Strappa un buon punto il Trestina in casa del Fiesole grazie alla rete su rigore di Mancini, pareggio anche per il Sansepolcro in casa contro lo Scandicci. Altro X lo regala il Bastia Montemurlo mentre affonda ancora la Ponte Vecchio superata tra le Muramiche e dall'Olimpia Colligiana. Completano il quadro la vittoria esterna per tra due della Narnese sul deruta, l'1-1 tra Pianese e Arezzo e il 2-2 tra Spoleto e Pistoiese per una classifica che nei quartieri nobili resta invariata, con Pianese in testa 21 punti, il Foligno che insegue a 18, il Bastia che sale a 12 punti, appena uno in più del Trestina nono. Nella parte bassa ci sono invece il Sansepolcro a 9, il Gualdo Casacastal da 8 punti, chiude in ultima posizione la Ponte Vecchio con 4 punti.